il cappello va meglio ma io non sono ancora guarito però stamattina ho letto una notizia che è davvero importantissima e nonostante che abbia un pochino di febbre non me la sono assolutamente sentita di far passare dell'altro tempo prima di comunicartela e allora mi sono affrettato a fare questo video nella speranza di non commettere strafalcioni che cosa è successo è successo che finalmente microsoft ha pubblicato sul proprio sito la nuova versione di windows che corregge tutti quanti gli errori di tutte le versioni precedenti e come facevo a non dirtelo allora ti senti pronto iniziamo e la notizia che ci regala la rivista il software è estremamente recente ed altrettanto gustosa ed interessante infatti è del 21 dicembre 2023 l'annuncio da parte di microsoft del lancio della nuova iso di windows 11 23 h2 nella versione più aggiornata leggiamo infatti nello stesso articolo che si tratta della nuova iso di windows 11 23 h2 contenente le correzioni per tutti i bug emersi dal rilascio del pacchetto a fine ottobre 2023 fino alla data odierna e questo è il motivo per cui assolutamente sul proprio pc si dovrebbe possedere questa versione la versione è scaricabile dal sito microsoft tramite gli strumenti tradizionali ma nel video di oggi voglio mostrarti anche la possibilità di installare questa versione di windows su qualsiasi macchina non supportata in maniera estremamente semplice e allora non perdiamo altro tempo e mettiamoci subito all'opera la prima cosa da fare sarà andare ad aprire il nostro browser puoi usare quello che vuoi io utilizzo google chrome e nel motore di ricerca andare a digitare download windows 11 iso effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato in assoluto cioè il sito microsoft facciamoci clic su e nella pagina che si aprirà scendiamo fino alla voce download dell'immagine del disco iso di windows 11 portiamoci nella riga di selezione un po più in basso clicchiamo sulla frecciolina verso il basso e scegliamo la voce windows 11 multi edition iso clicchiamo sul pulsante scarica e andiamo a scegliere con lo stesso metodo la lingua che ci interessa naturalmente io sceglierò in questo caso l'italiano a questo punto clicchiamo sul pulsante conferma e potremo infine cliccare su questo grosso pulsante 64 bit download per scaricare la nostra iso vedremo che partirà il download e la parte importante sarà quella relativa alla versione di questa iso che deve essere la v2 come vediamo esattamente dal nome stesso del file e a questo punto non ci resta che attendere il termine dello scaricamento do proprio a metà della seconda fetta va bene ti chiedo scusa a questo punto quello che dobbiamo fare è andare a cliccare sul pulsante mostra nella cartella per aprire la cartella download chiudere la finestra del browser e trascinare la iso sul desktop del nostro computer al termine di questa operazione potremo chiudere la cartella dei download e andare a procurarci il secondo strumento che ci servirà ma non prima di aver inghiottito il boccone ok dopo questo taglio tattico in cui mi sono ricomposto e ho recuperato un briciolo di dignità andiamo a vedere che cosa ci serve perché è vero che noi abbiamo la nostra iso ma naturalmente la nostra iso andrà installata avremmo potuto farlo tramite il software dedicato direttamente da microsoft che però impone delle pesanti limitazioni all'hardware del computer se noi invece vogliamo installare questa iso su macchine non supportate dovremo ricorrere al nostro carissimo amico rufus per farlo andremo ad aprire nuovamente il nostro browser che prima ti ho fatto chiudere nell'emozione del momento e nel motore di ricerca andremo a digitare come sempre gentiluomo digitale effettuiamo la nostra ricerca e faremo riferimento al primo dominio quello che si chiama www.gentiluomodigitale.it andiamo quindi ad aprire il sito nella parte in alto portiamoci nella sezione downloads ma questa volta vorrei svelarti un piccolissimo trucco dato che lo strumento che ci serve che si chiama rufus 4.3 è un pochino più in basso nei downloads questa volta come tutte le altre se hai bisogno di uno strumento potrai anche utilizzare questa lente di ingrandimento qui posta nell'angolo in alto a destra ci basterà infatti cliccarci su e digitare rufus effettuare la ricerca e troveremo subito comodo e scaricabile il nostro rufus 4.3 facciamoci clic su e vedremo che rufus viene scaricato sul nostro pc anche in questo caso facciamo doppio clic sul file compresso appena scaricato chiudiamo definitivamente questa volta la finestra del browser retrostante e trasciniamo rufus sul desktop come abbiamo fatto per la iso di windows 11 fatto questo chiudiamo la cartella compressa ma prima di lanciare rufus e creare il nostro pendrive di installazione avremo bisogno di un pendrive di installazione e per questo ti chiedo di procurarti un pendrive come questo della dimensione minima di 8 giga 16 è meglio una volta che te lo sarai procurato inseriscilo pure nel computer e a questo punto potrai aprire rufus accetta cliccando sul pulsante sì che vengano apportate modifiche al dispositivo e ti troverai nella schermata principale di rufus la prima cosa da fare a questo punto sarà quella di accertarci qui in alto che il pendrive selezionato da rufus sia quello corretto diversamente potremo premere su questo pulsantino a discesa e scegliere un altro pendrive nel mio caso c'è solo questo quindi non posso sbagliarmi fatto questo trascineremo l'immagine iso di windows 11 che abbiamo scaricato prima direttamente nella finestra di rufus e la lasceremo andare in questo modo l'immagine verrà automaticamente selezionata da rufus mi raccomando di fare attenzione che si tratti della versione 64 v2 come accennato in precedenza un po più in basso abbiamo lo schema di partizionamento questo qui il mio consiglio è di premere la combinazione di tasti alt più e e scegliere la versione bios o wifi in modo da renderla compatibile con la maggior parte delle macchine se tuttavia questa combinazione non dovesse andar bene potrai provare con altre combinazioni da scegliersi tra queste due voci che sono schema di partizione e sistema di destinazione fino a trovare la combinazione corretta per il tuo computer anche se ripeto questa selezione qui dovrebbe andar bene per la maggior parte delle macchine lasciamo tutto quanto il resto esattamente come si trova e andiamo a cliccare in basso sul pulsante avvia una volta cliccato sul pulsante avvia potremo andare ad utilizzare le potenzialità di rufus per far sì che questa iso sia installabile anche su macchine che non abbiano i requisiti in particolar modo questo lo facciamo selezionando questa voce che dice rimuovi requisiti per 4 giga di ram secure boot e tpm 2.0 l'unico requisito che non è possibile rimuovere perché non ce la farebbe materialmente ad eseguire windows 11 è quello per i processori non supportati naturalmente lasciamo anche spuntata come consiglio rimuovi requisiti per microsoft account online in modo da partire direttamente con un account locale scegliamo in questo caso se vogliamo creare automaticamente l'account con il nome utente che abbiamo indicato da rufus e che naturalmente potremo cambiare a nostro piacimento selezioniamo invece quest'altra voce se vogliamo impostare le opzioni regionali agli stessi valori che abbiamo noi quindi se impostare automaticamente la lingua italiana cosa che ti consiglio disabilitiamo la raccolta di dati e quindi salteremo quelle sei domande che ci fa windows in fase di installazione relative appunto alla privacy e infine come consiglio personale disabiliterei anche la crittografia automatica bitlocker perché a mio avviso crea più problemi che altro è vero è utile nel momento in cui ci dovessero rubare il computer ma in passato abbiamo visto dei sistemi molto più funzionali per proteggere il nostro computer e che soprattutto non danno tutti quanti quei problemi che bitlocker può dare in tanti casi fatte queste selezioni clicchiamo sul pulsante ok e a questo punto dovremo porre la massima attenzione e sì perché dovremo essere certi visto che tutto il contenuto del nostro pendrive verrà cancellato dalla scrittura che farà rufus di non avere dati importanti sul pendrive in questo caso interrompiamo l'operazione salviamo tutti quanti i dati e poi ripetiamo tutti quanti questi passi quando ce ne saremo accertati cliccheremo sul pulsante ok e come vedi partirà la creazione del nostro pendrive di installazione e noi ci vediamo tra un attimo ed ecco fatto il nostro pendrive è pronto possiamo cliccare quindi sul pulsante chiudi per procedere con l'installazione quello che dovremo fare a questo punto sarà inserire nella macchina su cui vogliamo installare windows 11 il pendrive che abbiamo appena creato riavviare la macchina ed entrare nel bios cosa che come sempre non posso mostrarti perché è diversa da macchina a macchina e la procedura per entrare nel bios può essere profondamente differente ti dico che normalmente per entrare nel bios può essere necessaria la pressione di uno o più tasti che generalmente possono essere il tasto canc oppure del il tasto f12 il tasto f10 oppure il tasto f2 se non sai quale tasto premere sulla tua macchina ti consiglio di fare prima una ricerca in internet sulla base della scheda madre che è installata sulla stessa una volta entrato nel bios ti troverai su una schermata simile a questa dove dovrai andare a cercare la sezione boot questa qui una volta entrato nella sezione boot dovrai accertarti di mettere al primo posto quindi come primo dispositivo di avvio proprio il pendrive che hai appena creato solitamente sul lato destro oppure in basso ci sono delle istruzioni su come procedere per modificare le impostazioni una volta terminato portati sulla sezione exit ed entrato nella sezione exit assicurati di salvare i cambiamenti e successivamente uscire dal bios e riavviare la macchina una volta riavviata la macchina partirà l'installazione di windows in questa schermata potremo lasciare tutto quanto esattamente come si trova perché avremo già impostato la lingua italiana e cliccare sul pulsante avanti in basso a destra fatto questo cliccheremo sul grosso pulsante installa e verrà avviato il programma di installazione di windows se non hai un product key sotto mano potrai per il momento scegliere questa voce quella che dice appunto non ho un product key che ti consentirà di andare avanti con l'installazione fino a quando non avrai recuperato il tuo codice product key di windows e potrai inserirlo anche in un secondo tempo diversamente inserisci qui in alto il tuo codice product key di windows e clicca sul pulsante avanti probabilmente ti verrà chiesto di scegliere quale versione di windows vorrai installare naturalmente accertati di scegliere la stessa versione per cui hai acquistato la licenza e fai pure clic sul pulsante avanti accetta spuntando questa casella i termini di licenza microsoft e clicca nuovamente sul pulsante avanti avrai la possibilità di aggiornare il tuo windows alla nuova versione mantenendo tutti quanti i file le impostazioni e le applicazioni cliccando semplicemente su questo pulsante invece vorrai scegliere la via più difficile che ti mostrerò a breve potrai fare clic su personalizza e partire da una macchina pulita ma attenzione perché in questo caso perderai tutti quanti i tuoi file ti mostro comunque questa operazione e quindi faccio clic sulla seconda voce nel caso in cui il tuo disco contenga già delle partizioni dovrai procedere con l'eliminazione delle stesse ma attenzione ti ripeto in questo caso andrai anche a cancellare tutti quanti i tuoi file per selezionare una partizione ti basterà cliccarci su e successivamente cliccare sul pulsante elimina per eliminare la stessa conferma con il pulsante ok di volerla eliminare e ripeti questa stessa operazione per tutte quante le partizioni del disco che vuoi liberare per windows una volta che il tuo disco sarà stato liberato potrai selezionarlo e cliccare sul pulsante avanti partirà a questo punto l'installazione di windows e non dovremo fare altro che aspettare ed ecco fatto abbiamo il nostro windows 11 23 h2 installato su una macchina priva di requisiti senza bisogno di premere nemmeno un tasto durante la fase dell'installazione e nonostante la lunghezza del video e la complessità delle operazioni informatiche delle quali mi scuso anche con te ma purtroppo quelle sono sono riuscito ad arrivare più o meno indenne anche alla fine di questo video e di questo devo sicuramente ringraziare il mio medico per il supporto ma quelli al mio medico non sono gli unici ringraziamenti che devo fare oggi infatti ringrazio con estremo piacere anche alex lux e giuseppe marino per essersi abbonati al canale e quindi è un mio onore e un mio privilegio dare loro il benvenuto nella community dei gentiluomini e ancora ci tengo a ringraziare ben due volte thomas 29 15 per i suoi super grazie che sono arrivati in questi giorni e allo stesso modo francesco d'agostino e leo carideo per lo stesso motivo naturalmente purtroppo non sto ancora bene sono rimasto indietro con i video e in questi giorni mancherò qualche giorno condizioni di salute permettendo perché avevo previsto di fare qualche vacanza di natale quindi ribadisco che i video ci saranno sicuramente ma fino alla ripresa del lavoro e quindi durante questo periodo festivo potranno essere un pochino intermittenti cosa della quale spero che mi perdonerai e detto questo come sempre non posso terminare il video senza aver fatto l'ultimo ringraziamento che è quello dovuto a te che hai guardato questo video fino in fondo e quest'oggi ti fa particolarmente onore data la lunghezza e quindi non mi resta che salutarti e darti appuntamento come di consueto alla prossima